Buon pomeriggio e benvenuti alla finale di questa Coppa Europa 2021 tra le formazioni del Cavaillon e del Castellaro. Agli ordini dell'abitro Bressana con aiutato da Rizzi, Rare e Cagliaro scendono in campo. Rizzi, arbitro centrale scendono in campo per il Cavaillon Michele Cimonetti, Gabriele Merivi, Andrea Cimarosti, Marco Spezia. Emanuele Lavarini, Riccardo Cattoli, direttore tecnico Edoardo Peroni, Pere Castellaro, Festi Luca, Medidi Alessandro, Festi Manuel, Ionis Michi, Gasperetti Federico, Vinzi Pietro, De Marco Francesco e Danini Davide. Direttore tecnico Valdini Luca Ed ora Dino d'Italia Ed ora Dino d'Italia Ed ora Dino d'Italia Ed ora Dino d'Italia Grazie a tutti. 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 30 Castellaro. Grazie a tutti. 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 3-1. 3-1. Grazie a tutti. 3-1. Grazie a tutti. 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 30-1. 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 30-2. Plez equilibrium. Grazie. 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 40 pari, palla a gioco. Grazie. 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 bravo 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 3-2 tutti bravi 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 3-2 12-0 Castellano 4-2 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. , 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 a tutti.